Sono 18 i lavoratori ex Acro stabilizzati ed assunti a tempo indeterminato da Acrea, la società che si occupa di rifiuti ed è partecipata al 100% dal comune di Crotone. Con la firma dei contratti si chiude così un iter iniziato sei anni fa a seguito di un accordo. Con la firma del contratto, tra gli assunti e l'azienda, si può dire conclusa una lunga fase di transizione tra la vecchia Acros e la nuova Acrea. Dal 2016 aspettavano questo momento per vedere riconosciuto il loro diritto già stabilito nell'accordo del 2016 e finalmente dopo sei anni di precariato riescono ad avere questo contratto a tempo indeterminato. A margine delle nuove assunzioni il presidente di Acrea traccia un primo bilancio ma soprattutto spiega che azienda ha trovato e su cosa intende puntare. Il problema è che l'Acrea, io sono stato presidente nel 2008-2009 di questa azienda e sinceramente ho trovato una situazione molto peggiorata rispetto a quella del 2008-2009 in quanto c'erano tutta una serie di contenziosi, ci sono ancora anche altri contenziosi sia questi ex Acros sia gli ex Sosta e in più c'è la situazione dei mezzi che finalmente anche questo stiamo cercando di risolverlo perché finora i mezzi che vengono utilizzati sono tutti mezzi presi a noleggio mentre dal mese di settembre recuperando un grande finanziamento regionale abbiamo bandito questa gara e nei prossimi giorni sarà giudicata. Ora l'attenzione è puntata sulla grande partita della raccolta differenziata che in questi anni l'amministrazione Voce ha inteso spingere. Con l'acquisto che faremo entro il mese di dicembre di 23 mezzi nuovi in più migliaia di contenitori usciamo a partire dal mese di gennaio la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.